Sciocca Mestre, dove un uomo è stato ucciso in circostanze da ricostruire all'interno dell'ascensore di un condominio. La vittima, Lorenzo Nardello, 32 anni, di Mirano, aveva una profonda ferita alla testa. Ma cosa è accaduto? I residenti hanno raccontato di aver sentito litigare con toni molto accesi, tanto che sono stati loro a chiamare il 113. La polizia ha arrestato i due uomini che erano con la vittima, due cugini di nazionalità moldava che sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini in corso a cura della squadra mobile della Questura di Venezia sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia devono ricostruire ogni aspetto di questa tragedia. I due uomini avrebbero raccontato che la vittima era andata a casa per derubarli. Ma la tesi non convince e chi conosceva la vittima è assolutamente contrario a questa ipotesi. Il 32enne avrebbe avuto qualche problema, ma nessuno lo riconosce capace di aver fatto una cosa simile. Un'ipotesi potrebbe essere invece quella di un regolamento di conti. Il giovane, secondo il riscontro del medico legale, aveva la parte destra del cranio fratturata.